Sì 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 no, si manchierà ah, c'è quello tu l'attaccia il canale? ja ma tu l'attaccia? ja, ja per appiccola no benyaka percorso Grazie o ap il è per ma non 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 e l'accia non ma non no, io faccio perché dove ho andato andiamo e' da l'escolta e' da l'escolta e' da l'escolta e' da l'escolta